Il pubblico ministero Liliana Todaro ha chiesto 21 condanne per un totale di 137 anni di reclusione nel processo abbreviato dell'operazione Beta. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina riguardava una cellula criminale con collegamenti al clan Santa Paola Ercolano di Catania che secondo l'accusa si stava radicando in riva allo stretto e si sarebbe avvalsa di professionisti, imprenditori, titolari di società, funzionari pubblici per gestire gli interessi economici illeciti. Nell'aula bunker del carcere di Gazzi si sta svolgendo il processo per quanti hanno scelto il rito abbreviato la cui posizione era stata separata dal troncone principale, trattato nell'udienza preliminare dello scorso giugno conclusa con 26 rinvii a giudizio. Al gruppo Carmine De Rose che presiede l'udienza il pubblico ministero ha chiesto condanne che vanno da un minimo di due a un massimo di 18 anni di reclusione. La condanna più alta a 18 anni è stata chiesta per Vincenzo Romeo che avrebbe avuto un ruolo di vertice mentre per Benedetto Romeo sono stati chiesti i 14 anni. Nel corso dell'udienza è stato sentito anche l'imprenditore Biagio Grasso che in questi mesi ha collaborato con i magistrati della DDA peloritana riempiendo pagine di verbali. Per Grasso il pubblico ministero ha chiesto la condanna ma con le attenuanti speciali per la collaborazione. Le richieste di condanna sono state formulate dal pubblico ministero Liliana Todaro che insieme ai colleghi Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti ha coordinato l'inchiesta. Queste nel dettaglio le richieste dell'accusa. Due anni per Francesco Alteri, Antonio Rizzo e Giovan Battista Croce, tre anni e sei mesi per Giovanni Bevilacqua, due anni e sei mesi per Caterina Di Pietro, due anni e tre mesi per Giorgio Piluso, tre anni e otto mesi per Mauro Guarnieri, tre anni per Fabio Laganà, quattro anni e sei mesi per Antonio Lipari, cinque anni per Salvatore Lipari e Lorenzo Mazzullo, dieci anni per Antonio Romeo e Giuseppe Verde, dodici anni per Marco Daidone, Pasquale Romeo e Nunzio Laganà, sei anni per Gianluca Romeo e quattro anni per Maurizio Romeo. Chiesta inoltre la confisca di quanto in sequestro. L'udienza proseguirà il 28 settembre per gli interventi della difesa.